Mattia Marciano e Valeria Bigella sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti molto intimi, è nata una nuova coppia. Ecco le indiscrezioni che stanno circolando nel web. Mattia Marciano e Valeria Bigella, nuova coppia. Il sito di gossip il vicolo dell'Enusa ha lanciato uno scoop. Una delle loro talpine ha pizzicato due volti molto noti dei programmi di Maria De Filippi insieme. La coppia insolita è formata da Mattia Marciano e Valeria Bigella. La persona che li ha visti insieme ha riferito che si trovavano in una pizzeria di Mergellina, Napoli ad un tavolo insieme ad altre persone, ma anche che tra loro è scattato un bacio. Mattia e Valeria sono dunque una nuova coppia. Valeria Bigella di nuovo single.Valeria Bigella è stata una delle protagoniste di un'edizione di Temptation Island in cui ha partecipato come fidanzata. Dopo il programma la storia tra lei e Alessio Bruno è finita e da poco lei aveva ritrovato l'amore accanto al calciatore Davide Petrucci. La stessa Valeria, però, ha confessato di averlo lasciato da un po' di tempo perché non riceveva le attenzioni che lei dava. La ragazza, ora nota influencer di Instagram, è già pronta a voltare pagina. Mattia Marciano, le ultime dichiarazioni. Mattia Marciano è stato un corteggiatore e poi un tronista di uomini e donne qualche anno fa. Aveva scelto Vittoria, ma dopo qualche mese la storia tra loro è finita. Recentemente, Mattia ha rilasciato un'intervista al settimanale di Più, in cui ha raccontato dei curiosi aneddoti sulla nuova tronista e sua ex fidanzata Angela Nasti. Prima dell'esperienza a uomini e donne, Mattia e Angela hanno vissuto un'intensa storia d'amore ma lei ha deciso di lasciarlo. Dopo la rottura tra Mattia e Vittoria, Angela è tornata da lui chiedendogli di tornare insieme. Tuttavia, poi lei ha deciso di accettare la proposta di diventare la nuova tronista di uomini e donne. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.